Sicuramente il periodo di isolamento ha aumentato l'utilizzo di internet e delle tecnologie, per questo i ragazzi che già prima erano sicuramente molto avvezzi con la pandemia hanno intensificato questo utilizzo e fra le attività purtroppo che erano a disposizione c'era anche il gioco d'azzardo. Non solo la pandemia ha aumentato il gioco d'azzardo negli adolescenti e nei giovani, ma sicuramente ha contribuito.